Ciao da Avsim! Il caso Lazio tiene ancora banco anche perché ormai siamo a meno di 24 ore da Lazio-Juventus domani domenica 8 novembre e al momento in cui sto registrando la mattina del 7 novembre non c'è ancora la lista dei convocati da parte di Simone Inzaghi per questa partita e siamo anche in attesa della sua conferenza stampa di oggi alle 14. Conferenza stampa in cui inevitabilmente dovrà venire fuori qualche ulteriore informazione e soprattutto qualche elemento di chiarezza in più perché quello che è stato scritto sui vari giornali e anche i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi non ci fanno realmente capire come sta andando la situazione e chi sta dicendo la verità. Ci sono veramente delle discrepanze nette soprattutto per quanto riguarda i test che sono stati effettuati nei confronti del gruppo squadra della Lazio che prendono le mosse anche dalle dichiarazioni del medico sociale Ivo Pulcini che pare abbia detto delle cose non proprio precise almeno per quello che riporta Gazzetta dello Sport ma sul ruolo di Gazzetta dello Sport mi sono già speso in un video precedente rispetto alla vicenda e tornerò a parlarne nel corso di questo video. Prima però vi raccomando di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e restare sempre aggiornati sulla mia programmazione. Dobbiamo fare una premessa sui tamponi e sui test che vengono fatti per scovare il coronavirus per vedere chi ce l'ha. Probabilmente siete già ben informati su questo, sono ormai tanti mesi che affrontiamo questa pandemia quindi abbiamo imparato che cosa significa tampone, che cosa significa test molecolare, che cosa significa test sirologico e che cosa significa test rapido. E quindi la differenza che dobbiamo fare parte da qui perché è qui il terreno di scontro e forse è qui la differenza tra calciatori positivi e calciatori negativi della Lazio e di conseguenza calciatori che non potevano e non potrebbero giocare, compresa la gara di domani contro la Juve e giocatori invece che potevano farlo. Naturalmente per quanto riguarda il tampone lo sappiamo bene, stiamo parlando del test molecolare quindi quel test che viene effettuato in maniera non esattamente rapida ma che risulta al momento essere il più attendibile che va a vedere se in quel dato momento il soggetto è positivo, il soggetto ha il virus nell'organismo e di conseguenza è più o meno contagioso. Il test sirologico invece va ad indagare la presenza degli anticorpi che ci possono dire che si è stato in contatto con il virus di recente oppure in passato ma non ci dice se al momento il virus è presente nell'organismo e di conseguenza se si è contagiosi con una rapidità di risultati maggiore rispetto al test molecolare. E poi ci sono i test rapidi, ovvero i cosiddetti test antigenici che hanno meno attendibilità secondo la comunità scientifica rispetto ai tamponi rispetto quindi ai test molecolari ma in base alla presenza di proteine ci possono dire comunque rapidamente con un certo grado di attendibilità se si è positivi o meno, se il virus è o meno nell'organismo. Ora il punto sta proprio qui nella differenza sui test che sono stati fatti nel gruppo squadra della Lazio e anche su dove sono stati fatti tra un laboratorio di Avellino a cui la Lazio si è sempre affidata in tutto questo lungo periodo e il laboratorio invece del campus biomedico di Roma a cui la Lazio si è rivolta per questi ultimi test per avere una conferma della situazione e stando a quanto detto appunto dal medico sociale i giocatori che anche quelli che erano risultati precedentemente positivi sono risultati negativi e quindi si parla di tre giocatori in particolare che sarebbero convocabili per la partita Lazio-Juventus ma appunto come dicevo siamo in attesa di ufficialità e di conferma su questo. Chi dice la verità e che cosa esattamente è successo a livello proprio di scansione cronologica degli eventi? Un po' l'avevamo già detto, ci sono stati vari test ovviamente che sono stati fatti nei confronti del gruppo squadra della Lazio ci sono stati dei calciatori risultati positivi per esempio Luis Alberto che lui personalmente ha dichiarato poi sui social essere risultato negativo e già perché per una questione di privacy il club non è in generale il datore di lavoro non è mai tenuto a comunicare l'identità e quindi nome e cognome del soggetto, del dipendente che eventualmente risulta positivo c'è però l'obbligo di mettersi in contatto con l'ASL su questo arriviamo dopo quindi la Lazio non ha mai comunicato i nomi dei calciatori risultati positivi e non l'ha fatto neanche in queste ultime ore quando si è presa ieri pomeriggio la notizia di tre calciatori positivi potrebbero essere come riferisce Gazzetta usando il condizionale proprio immobile Leiva e Stracoscia di cui si era già parlato e che erano risultati positivi anche ai test UEFA però poi appunto c'è stato questo discorso dell'ulteriore test che avrebbe fatto risultare tutti negativi e quindi per la Lazio anche questi tre giocatori sarebbero disponibili la differenza sta appunto tra test rapido che avrebbe riscontrato la positività di questi calciatori e test molecolare come già detto il test molecolare, quello tramite il tampone dovrebbe essere più attendibile quindi se davvero è risultata una positività al test rapido ma non a quello molecolare forse possiamo star tranquilli che effettivamente il gruppo squadra della Lazio non presenta calciatori positivi e quindi anche i mobili Leiva e Stracoscia nello specifico possono essere convocati per la gara con la Juventus però dobbiamo fare un ulteriore passaggio su un chiarimento cioè come vengono svolti questi test come si utilizzano i reagenti nel test molecolare per arrivare a determinare la presenza o meno del virus perché c'è lo screening che viene fatto sostanzialmente su tre geni come riferisce sul proprio sito SynLab che è il laboratorio svizzero che viene utilizzato dalla UEFA in maniera unificata per fare i test sui tamponi effettuati su tutti i giocatori che partecipano alle competizioni UEFA di qualunque nazionalità siano e di qualunque provenienza sia il club di appartenenza dice SynLab che nel tampone nasofaringeo test molecolare sono tre i geni come da conformità all'OMS che vengono vagliati cioè il gene N, il gene E e il gene RDRP si è detto tanto su questo il laboratorio di Avellino pare tenesse conto di tutti e tre i geni però non segnalasse la positività al gene N o forse sì insomma c'è stata veramente tanta tanta confusione e in questo momento è difficile capire realmente quali test sono stati fatti e con quale esito la cosa però purtroppo chiara e palese è che non c'è stata un'uniformità appunto nell'effettuarsi del test perché se la stessa Lazio dopo essersi rivolta al centro diagnostico di Avellino ha dovuto rivolgersi al campus biometico di Roma evidentemente necessitava di una conferma e di un test differente rispetto a quello fatto prima necessitava quindi di conferma il club bianco celeste e questo ci porta anche ad un altro punto che è stato oggetto di una discussione in Lega Serie A proporre, e della FIGC anche cioè proporre l'unificazione e l'uniformità nell'effettuazione del test presso un unico centro diagnostico presso un'unica azienda che possa quindi evitare che ci siano delle discrepanze e cioè se si è positivi per quel test fatto in quel modo sono positivi tutti alla stessa maniera evitando che ci siano delle differenze e cioè che ci siano calciatori che con bassa carica virale sono comunque ritenuti positivi e non possono scendere in campo rispetto ad altri che con la stessa carica virale molto bassa vengono ritenuti negativi sulla base di parametri differenti che si discostano poi da quelli UEFA e da quelli utilizzati con SILAB di conseguenza ci possono essere come sta succedendo giocatori positivi per la UEFA e negativi per la FIGC ma forse neanche del tutto negativi per la FIGC in base al laboratorio a cui ci si rivolge insomma veramente un grosso caos su cui dovrà essere necessariamente la FIGC tramite l'inchiesta della procura che è stata avviata nei confronti della Lazio a fare chiarezza ma la cosa mi dice che non finirà lì neanche dovesse esserci una sanzione nei confronti della Lazio perché c'è infatti una guerra su altro fronte che coinvolge Urbano Cairo e Claudio Lotito ed è una guerra che viene fatta anche attraverso i media attraverso i giornali perché Gazzetta dello Sport di cui è editore appunto Urbano Cairo oltre ad essere poi presidente anche del Torino che ha giocato contro la Lazio e che quindi potrebbe lamentare eventualmente qualcosa in termini di aver affrontato una squadra che aveva in campo dei positivi aver perso anche per quello se sarà dimostrato questo è un giornale Gazzetta che tutti i giorni quotidianamente in maniera sferzante e molto pesante sta raccontando questa vicenda puntata dopo puntata giorno dopo giorno con titoli molto forti in prima pagina ed anche con articoli poi di approfondimento sul proprio sito e quindi la questione è politica perché? perché se andiamo ad un altro piano ad un altro livello quello della creazione di una media company che possa gestire la distribuzione del prodotto serie A e quindi i diritti tv ed è una questione molto calda di cui si sta discutendo in queste settimane lì c'è una vera e propria battaglia tra Cairo che è sul fronte Agnelli e quindi accettazione dell'inserimento dei fondi esteri CVC in particolare per la formazione della media company e Lotito che sta invece con De Laurentiis e che dice che non bisogna rivolgersi agli estranei ma bisogna fare internos quindi creando la media company che sia gestita esclusivamente dagli stessi responsabili dei club di serie A capiamo che a questo livello c'è una battaglia politica che quindi trova poi un ulteriore campo di battaglia e di sfida su quest'altro fronte che si è creato in maniera estemporanea cioè ovviamente Urbano Cairo con RCS e con il Torino non hanno fatto nulla perché venisse a crearsi questa situazione ha fatto tutto la Lazio anche solo in maniera di scarsa chiarezza con appunto le dichiarazioni del medico sociale e i comunicati stampa sul sito che non sono così frequenti e puntuali e non hanno mai riportato il nome dei giocatori e dei componenti del gruppo squadra di volta in volta eventualmente risultati positivi a proposito l'ultimo comunicato della Lazio datato 3 novembre va a smentire tutta una serie di dichiarazioni di stampa di notizie di stampa mettendo anche in guardia i vari interpreti i vari protagonisti del racconto mediatico della vicenda nel non dire inesattezze perché ovviamente si viola la privacy si viola l'immagine dei calciatori e del club specificando che dopo i tamponi UEFA con i controtamponi i controtest effettuati proprio dalla Lazio presso sostanzialmente non viene scritto ma si ritiene possa essere appunto il centro diagnostico di Avellino erano emerse delle anomalie delle criticità ma queste anomalie e criticità a specificazione di un precedente comunicato stampa non riguardano la situazione degli atleti bensì la veridicità e i dubbi sui test effettuati da parte di Sinlab cioè la Lazio ha detto quasi sostanzialmente che non si è fidata non ha trovato riscontro ai test all'esito dei test della UEFA ha fatto in maniera propria ha fatto di propria iniziativa e ha trovato una soluzione diversa ha avuto un esito diverso ecco come vedete c'è una discrepanza importante molto grave e non credo si possa onestamente andare avanti così serve chiarezza servono dei chiarimenti serve ovviamente il rispetto del protocollo a proposito nella battaglia se così possiamo definirla per cui comunque possiamo ringraziare Cairo e Gazzetta se si perverrà ad un chiarimento alla chiarezza sulla vicenda ed eventualmente anche a sanzioni nei confronti di eventuali responsabili si parla anche di risvolti penalistici oltre che di violazione del protocollo in che senso? nel senso che se è vero come si sta riportando che l'ASL non ha avuto nessuna comunicazione da parte della società sportiva Lazio circa i nomi e la presenza di calciatori e membri del gruppo squadra positivi in quel caso ci sarebbe già una violazione del protocollo covid serie A che impone di interfacciarsi assolutamente con le autorità sanitarie locali cosa che la Lazio non ha per il momento confermato perché nell'ultimo comunicato stampa di cui vi parlavo ha fatto riferimento ad un costante collegamento con le autorità nazionali e con quelle sportive anche a livello europeo quindi non dice la Lazio di aver effettivamente comunicato con l'ASL potrebbe comunque averlo fatto ma secondo alcuni non l'ha fatto nel caso ripeto ci sarebbe violazione di protocollo e come abbiamo già detto per casi così gravi cioè cattiva gestione dei contagi e addirittura utilizzo di calciatori positivi se sarà dimostrato tutto ciò ci sono rischi pesanti fino alla retrocessione o addirittura all'esclusione dal campionato vedremo allora che cosa succederà qualcosa mi dice che Lazio Juventus non finirà al novantesimo e quindi come vi ho già chiesto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video ditemi quello che pensate nei commenti mi raccomando sempre moderazione nel dibattito e mettete like a questo video se vi è piaciuto grazie per la vostra attenzione ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie per la vostra attenzione